Ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video benvenuti sul mio canale io sono Giorgia Concheri e oggi è una bellissima giornata perché faremo un giro su T-Silver il mio amico speciale se non avete visto il video andate subito a vederlo, subitissimo dovete scrivere il mio amico speciale T-Silver e lo trovate subito andiamo a prenderlo prima di montarlo lo faccio a scolare ehi papà ma quanto sei ricca ha un bel cavallo veloce saluti felicità ehi papà ma quanto sei ricca ha un bel cavallo veloce saluti felicità Ehi papà, ma quanto è felice, ho un bel suolo veloce e salito felicità. Ehi papà, ma quanto è felice, ho un bel suolo veloce e salito felicità. Ehi papà, ma quanto è felice, ho un bel suolo veloce e salito felicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bellissimo montare questo cavallo. Grazie a tutti. Escrivetevi al mio canale. Saluti da Giorgia. Ciao. Un bacio a tutti. Ragazzi, in questo video mi sono divertita tantissimo. Adesso andiamo.